Il milionario modello Se non si è ricchi, avere del fascino non serve a nulla. L'atmosfera romantica è il privilegio del uomo ricco, non l'attività del disoccupato. Il povero dovrebbe essere pratico e prosaico. È meglio avere un reddito fisso che essere affascinanti. Quindi, queste sono le grandi verità della vita moderna che Huggy Erskine non capì mai. Povero Huggy, da un punto di vista intellettuale bisogna riconoscerlo. Era una gran cosa. Nella sua vita non disse mai niente di brillante, né tantomeno una cattiveria. Ma in fondo era stupendamente bello da vedersi, coi suoi ricciuti capelli castani, il profilo perfetto e gli occhi grigi. Piaceva e molto, tanto agli uomini quanto alle donne, e aveva tutte le qualità, tranne quella di far soldi. Suo padre gli aveva lasciato la sua spada di cavalleria. È una storia della guerra peninsulare in quindici volumi. Huggy appese la prima allo specchio. Ripose l'altra in uno scaffale, tra la guida Raffa e il Biley Magazine, e tiro avanti con duecento sterline all'anno, che una vecchia zia gli aveva accordato. Aveva provato di tutto. Era stato in borsa per sei mesi. Ma cosa mai ci stava a fare una farfalla fra gli alzisti e i ribassisti? Aveva resistito un po' di più come mercante di tè, ma si era presto stancato di Pecoe e Sushong. Poi aveva provato con la vendita dello sherry secco, ma non faceva per lui. Lo sherry era un po' troppo secco. Negli ultimi tempi si era rassegnato a non far nulla. Era diventato un giovanotto delizioso e inutile, con un profilo perfetto e senza alcuna occupazione. Peggio ancora, si era innamorato. Amava Laura Merton, figlia di un colonnello in pensione, che aveva perduto in India la flemma e la salute, e non aveva più ritrovato né l'una né l'altra. Laura l'adorava, e lui le avrebbe baciato le stringhe delle scarpette. Era la più bella coppia di Londra, e fra tutti e due non avevano un centesimo. Il colonnello era molto affezionato a Huggy, ma quanto a fidanzamento, non voleva sentirne parlare. «Giovanotto, venga da me quando avrà dieci mila sterline di suo, e vedremo», gli ripeteva. E Huggy in quei giorni sembrava tanto depresso, e doveva andare da Laura a consolarsi. Una mattina, mentre andava a Holland Park, dove vivevano i Merton, gli capitò di far visita a un suo grande amico, Alan Trevor. Trevor era un pittore. A dire il vero, poche persone al giorno d'oggi riescono a fare a meno di essere un pittore. Trevor però era anche un artista, e gli artisti sono abbastanza rari. Era un tipo rude e bizzarro, con la faccia lentigginosa e una barba rossa incolta, ma quando prendeva in mano un pennello, era un vero maestro, e i suoi dipinti erano avidamente ricercati. Si deve riconoscere che in un primo tempo era stato attratto da Huggy solo in virtù del suo fascino personale. Le sole persone che un pittore dovrebbe conoscere, era solito dire, sono persone bet e belle, persone che a guardarle è un piacere artistico, e a parlarsi è un riposo intellettuale. I uomini eleganti e le belle donne governano il mondo, o perlomeno dovrebbero farlo. Comunque, dopo aver conosciuto meglio Huggy, gli piacque altrettanto per il suo carattere vivace e ottimista e per la sua natura generosa e altruista, tanto che gli concesse le libera in tre al suo studio. Quando Huggy entrò, Trevor stava ritoccando un meraviglioso dipinto di un mendicante a grandezza naturale. Il mendicante a ritratto era in posa, su una piattaforma rialzata e in un angolo dello studio. Era un vecchio avvizzito, con un volto rugoso come carta pecora e un'espressione decisamente miserabile. Alle spalle gli pendeva un ruvido mantello marrone, tutto buchi e brandelli. I suoi stivali pesanti erano rattoppati e aggiustati al meno peggio, e mentre con una mano si appoggiava un rozzo bastone, con l'altra apporgeva il suo luguro cappello per l'elemosina. Che modello singolare? sussurrò Huggy mentre stringeva la mano dell'amico. Un modello singolare? rispose Trevor con quanta voce aveva in corpo. Forse hai ragione. Mendicanti come lui non si incontrano tutti i giorni. Una trouvel, mon cher, una vela scessa in carne e ossa. Per Dio! Che acquaforti avrebbe fatto Rembrandt da questo qui? Povero vecchietto, disse Huggy, come sembra infelice. Ma suppongo che il suo volto per voi pittori sia la sua fortuna. Certamente, rispose Trevor, non pretenderai che un mendicante sembri felice, no? Quanto prende un modello per posare? chiese Huggy mentre si sedeva comodamente su un divano. Un ocellino allora. E tu quanto prendi per il tuo dipinto, Alan? Oh, per questo qui duemila. Sterline? Ghinee! Pittori, poeti e medici prendono sempre Ghinee. Beh, credo che i modelli dovrebbero avere una percentuale, protestò ridendo Huggy. In fondo, più o meno lavorano sodo quanto te. Che assurdità! Pensa solo alla noia di stendere il colore e di stare tutto il giorno davanti a un cavalletto. Huggy, è molto facile per te parlare, ma ti assicuro che ci sono momenti in cui l'arte raggiunge quasi la dignità del lavoro manuale. In ogni caso non dovresti chiacchierare, sono molto occupato. Fumati una sigaretta e sta zitto. Poco dopo entrò il domestico e disse a Trevor che il corniciaio voleva parlargli. Non andare via, Huggy, gli disse uscendo. Torno subito. Il vecchio mendicante approfittò dell'assenza di Trevor per riposare un po' su una panca di legno che era dietro di lui. Aveva un'aria così miserabile e sfortunata che Huggy non poté fare a meno di provare pietà e tastò il suo borsellino per vedere che monete avesse. Tutto quello che poté trovare fu una sovrana e alcune monetine. Pover uomo, pensò tra sé, ne ha più bisogno di me. Vorrà dire che rinuncerò alla carrozza per due settimane. Attraversò lo studio e lasciò cadere la sovrana nella mano del mendicante. Il vecchio trasalì e un debole sorriso gli apparde sulle labbra vizzite. Grazie, signore, gli disse. Grazie. Poi Trevor fece ritorno e Huggy prese congedo arrossendo un po' per il suo gesto. Trascorse la giornata con Laura ricevendo un delizioso rimprovero per la sua prodigalità che lo costrinse a tornare a casa a piedi. Quella sera verso le undici fece un salto al pallet club e nella sala da fumo incontrò Trevor che sedeva da solo bevendo vino bianco del Reno e acqua di Seltz. Allora Alan, hai terminato il ritratto? gli disse mentre si accendeva una sigaretta. Terminato e incorniciato ragazzo mio rispose Trevor. A proposito, hai fatto una conquista. Quel vecchio modello che hai visto è entusiasta di te. Ho dovuto raccontargli tutto sul tuo conto. Chi sei e dove vivi? Quali sono le tue entrate? Che prospettive hai? Mio caro Alan esclamò Hoogie probabilmente lo troverò ad aspettarmi sotto casa ma naturalmente stai scherzando povero vecchietto vorrei poter fare qualcosa per lui mi sembra terribile che qualcuno sia così disgraziato ho un mucchio di vecchi abiti a casa pensi che qualcosa gli possa interessare? Diamine i suoi stracci cadevano a pezzi ma è splendido in quelli disse Trevor non lo dipingerei mai in Red Nygote quelli che tu chiami stracci io li chiamo poesia quello che per te è povertà per me è colore in ogni modo gli dirò della tua offerta Alan disse Hoogie con gravità voi pittori siete davvero senza cuore il cuore di un artista è la sua testa rispose Trevor e inoltre il nostro lavoro consiste nel rappresentare il mondo come lo vediamo non nel correggere ciò che conosciamo a ciascuno il suo mestiere ma ora dimmi di Laura il vecchio modello era molto interessato a lei vuoi forse dire che gli hai parlato di lei? disse Hoogie certamente sa tutto del severo colonnello della bella Laura e delle diecimila sterline hai raccontato al vecchio mendicante tutti i miei affari privati? protestò Hoogie arrossendo di rabbia mio caro ragazzo replicò Trevor con un sorriso quel vecchio mendicante come dici tu è uno degli uomini più ricchi d'Europa potrebbe comprare tutta Londra dall'oggi al domani senza colpire il suo colpo in banca ha una casa in ogni capitale cena su piatti d'oro e se la cosa lo aggrada può impedire alla Russia di entrare in guerra che diavolo vuoi dire? scramò Hoogie quello che ho detto disse Trevor il vecchio che hai visto oggi nello studio era il barone Hausberg è un mio grande amico compra tutti i miei quadri e fra le altre cose un mese fa mi commissionò di dipingerlo in veste di un mendicante cosa vuoi? le fantasie di un milionario e devo dire che facevo una magnifica figura nei suoi strazzi o forse dovrei dire nei miei strazzi è un vecchio vestito che ho comprato in Spagna il barone Hausberg esclamò Hoogie santo cielo e io gli ho dato una sovrana e costernato sprofondò in una poltrona gli hai dato una sovrana disse Trevor scoppiando in uno scroscio di risa mio caro ragazzo non la vedrai mai più sono affersa l'argento des autres avresti potuto dirmelo Alan disse Hoogie imbronciato ed evitarmi quella figura ridicola in primo luogo Hoogie disse Trevor non avrei mai pensato che tu andassi in giro a dare elemosina in modo così avventato capisco che tu possa baciare una modella carina ma dare una sovrana a un tipo così brutto per Giove no inoltre a dirla tutta oggi non ero in casa per nessuno e quando sei entrato non sapevo se Hausberg avrebbe gradito che menzionassi il suo nome sai che non era in abito di gala mi giudicherà uno sciocco disse Hoogie ma no dopo che sei uscito aveva il morale altissimo ridacchiava fra sé fregandosi le vecchie mani rugose non riuscivo a capire perché si interessasse tanto a te ma ora comprendo tutto investirà la sovrana a tuo nome Hoogie ti pagherà gli interessi ogni sei mesi e avrà una magnifica storia da raccontare dopo cena sono davvero un povero diavolo prontolò Hoogie la miglior cosa da fare è andare a dormire e mi raccomando Alan non oserei più mostrare la mia faccia nel row che assurdità va tutto a vantaggio della tua fama di filantropo Hoogie e non scappare via subito fumati un'altra sigaretta e parlami pure di Laura quanto vuoi Hoogie però non volle fermarsi tornò a casa a piedi sentendosi molto infelice e lasciando Alan Trevor in preda al riso il mattino successivo mentre era a colazione il domestico gli portò un biglietto nel quale era scritto Messier Gustave Nodin della part de Messier Baron Hausberg sarà certo venuto per ricevere le mie scuse pensò Hoogie e disse al domestico di introdurre l'ospite un vecchio gentiluomo con occhiali d'oro e capelli grisi entrò nella stanza e parlando con un leggero accento francese disse ho l'onore di rivolgermi al signor Erskine Hoogie si inchinò vengo da parte del barone Hausberg continuò il barone la prego signore la prego signore di offrire le mie più sincere scuse farfugliò Hoogie il barone disse il vecchio gentiluomo con un sorriso mi ha incaricato di portarle questa lettera e forse una busta sigillata c'era scritto un regalo di nozze per Hug Erskine e Laura Merton da parte di un vecchio mendicante e dentro c'era un assegno di 10.000 sterline quando si sposarono il testimone dello sposo fu Alan Trevor e il barone fece un discorso al pranzo di nozze già un modello milionario commentò Alan è piuttosto raro ma per Giove un milionario modello lo è ancora di più grazie a tutti